Ciao! Oggi un nuovo video! Vi voglio far vedere gli ultimi acquisti che ho fatto in questo periodo. Direi di iniziare subito e partirei con Sephora. Che cosa ho acquistato? Allora, in primis vi voglio far vedere la mascherina per il viso che mi hanno dato per il mio compleanno avendo la carta black. Ed è questa qui, all'argilla blu, da 35 ml e può essere utilizzata per ben 4 volte. So che una delle ultime novità delle maschere in casa Sephora, so che ci sono altre mascherine con il pack di colori diversi e sono molto curiosa di provarla. Anzi, fatemi sapere se avete provato questa qui oppure se avete provato le altre. Scrivetemelo qui sotto nei commenti, datemi qualche consiglio se anche le altre sono buone o meno. Comunque fatemi sapere tutto, io sono molto curiosa di provarla. Appena la testerò per bene vi farò sapere o qui su YouTube oppure in un post su Instagram. Poi ho voluto acquistare due nuove maschere per il viso in tessuto. Allora, la prima è questa qui all'uva nera ed è Perfecture Anti-Pollution. Quindi è protettiva e anti-inquinamento. Sono molto curiosa. Anzi, fatemi sapere se avete provato queste maschere, come vi ci trovate. Scrivetemi tutto comunque. Io sono molto molto curiosa, anche perché ne ho sentito parlare molto bene di queste maschere. Quindi non vedo l'ora di provarle. E questa qui l'ho pagata 3,90 euro. In effetti non è proprio così economica, perché ci sono altre maschere che comunque sono buone e costano di meno. Però una volta ogni tanto si può anche fare. Quindi non vedo l'ora di provarla. E poi l'altra che ho acquistato è questa qui sempre in tessuto, ma all'ananas. E questa qui è per perfezionare, diciamo, i pori. E io amo l'ananas, quindi appena l'ho visto ho detto, devo acquistarla subito. E anche questa qui l'ho pagata 3,90 euro. Comunque appena le provo vi faccio sapere. E poi alla Sephora di Novara, dove sono andata, strano ma vero ragazzi, mi hanno lasciato un campioncino. Mai visto prima, però meno male. E mi hanno lasciato questo qui di Wungler, l'alien. Chissà, ne ho sentito parlare molto bene di questo profumo. Vedremo se sarà buono o meno. Poi sono passata dalla mia amica Francesca, dell'erboristeria del Borgo, che si trova a Borgo Ticino. So che vi sto facendo una testa tanta con questo negozietto, però io ve lo straconsiglio. Se siete della zona di Novara, Borgo Manero e dintorni, passate perché merita veramente tanto. Poi Francesca è una ragazza bravissima, simpatica, disponibile. Vi dà tanti consigli interessanti. All'interno del suo negozio ci sono un sacco di prodotti interessanti. Dal make-up, alla skin care, per i capelli, tisane, c'è di tutto. Passate, mi raccomando. Allora, innanzitutto in questo bellissimo sacchettino, perché lei fa delle confezioni fantastiche, ho voluto acquistare due ombrettini di Puro Bio. Purtroppo non mi ricordo i prezzi, ragazze, mi spiace un sacco, ma nel caso se dovessi trovarli ve lo scriverò qui sotto nell'info box. E ho voluto acquistare, allora, l'ombretto numero 07 e questo qui è il pack. Se non mi sbaglio, ma corriggetemi, dovrebbe aver cambiato il pack Puro Bio. E questo qui è il primo colore, vedete? Ecco, è completamente fedele, come lo vedete, ragazze. Eccolo qua. E vi faccio anche uno swatch. E, cioè, guardate, appena ho sfiorato la cialda. Questa è la colorazione, cioè, guardate che spettacolo, ragazze. È bellissimo. Non vedo l'ora di provarlo sulla palpebra. Sono curiosissima. E poi ho... adesso mi devo pulire, vabbè. E poi ho voluto prendere anche il numero 16. Ed è questo qui. Eccolo qua. Questo bellissimo color dorato. Ecco qua. E anche di questo vi voglio fare lo swatch perché merita un sacco. Ecco qua. Un pochettino polveroso questo qui. Guardate, c'è luce. Guardate che spettacolo. Cioè, bellissimo. Troppo bello. Poi, secondo me, questi due qua insieme potrebbero stare bene. Magari questo qui, per esempio, sulla palpebra mobile, oppure nella piega. E questo qui come punto luce. Oppure anche da soli, eh, ragazzi. Cioè, sono veramente bellissimi. Scriventi, ottimi, secondo me, questi ombretti. Cioè, poi mi pulirò dopo. E poi ho acquistato questa qui, che è la maschera viso peel off della saponaria. Ed è la polvere di riso e alghe marine. E questa contiene 30 grammi con una scadenza di 6 mesi. E sono molto curiosa di provarla perché ne ho sentito parlare bene di questo marchio, soprattutto. E non vedo l'ora di testarla. Fatemi sapere se anche voi l'avete provata, se l'avete utilizzata con qualche prodotto nello specifico. Scrivetemelo qui sotto nei commenti, datemi un po' di consigli. E poi, lei mi ha lasciato innanzitutto una marea di campioncini, che adesso vi mostro subito. E poi mi ha lasciato anche un omaggino, come sempre lei è troppo carina. E mi ha lasciato questo ombrettino in polvere di Neme Cosmetic dal nome Smile. E questo qui è il colore. Cioè, guardate che bello. È bellissimo. Guardate. Appena l'ho visto ho detto questo è mio, perché amo queste colorazioni. Troppo bello. Grazie Franci. E poi questi qui sono i campioncini che mi ha lasciato. Allora, sono tutti di Biofficina Toscana. Allora, il primo è questo qui, questo balsamo senza risciacquo. Poi abbiamo il balsamo volumizzante protettivo, shampoo concentrato delicato, un altro shampoo concentrato delicato, un altro, un altro ancora. Poi, shampoo concentrato rinforzante. E altri due identici, eccoli qua. Grazie mille Franci per tutti questi campioncini, per il regalino. Sei sempre troppo troppo carina. Quindi ragazze, passate da lei, mi raccomando. E non ve ne pentirete assolutamente. Anzi, fatemi sapere se magari volete un mi trucco con voi, con questi ombretti di puro Bio. Scrivetemelo qui sotto nei commenti. E poi, dulcis in fondo, sono passata dalla mia amica Valentina. Anche di lei vi faccio una testa grossa come una casa, perché ha la parafarmacia Piano Bio a Somma Lombardo. Ormai io mi rifornisco sempre o da Valentina o da Francesca. E anche lei appunto ha questo negozietto bellissimo, con tanti prodotti molto interessanti. Comunque anche di lei vi lascerò tutti i link qui sotto nell'info box. E cosa ho acquistato? Ragazze, è uscita la nuova palette di Nabla. Ti pare che la simonetta non la va a comprare? Assolutamente no! Ed ho acquistato la Soul Blooming di Nabla. Sì, ragazze, ce l'ho finalmente nelle mie mani. Sono troppo contenta. Già solo il pack è uno spettacolo. E adesso la sfiro. Ok, allora la palette l'ho pagata a 35,90 euro, però merita tantissimo. Eccolo qua, questo è il pack. Uno spettacolo. Poi appena l'ho vista su Instagram mi son detta questa è mia. Cioè, rispecchia proprio la primavera, il fatto dei fiori di ciliegio, no? Il mio canale c'è riblosso, quindi dovevo per forza averla. È troppo bella. Questo qui è stato un regalo del mio amore, Luca. Ti ringrazio tantissimo, amore. Ti mando un bacione grosso. Me l'ha regalata lui questa palette qua. Allora, ha uno specchio, bello grosso, devo dire. Adesso tiro via la plastichina e così vi posso far vedere i colori. Eccolo qua, ragazze. C'è uno spettacolo. Troppo belli questi colori. Guardate. Mamma mia. C'è. Bellissima. Bellissima. E non vedo l'ora di provarla. Pensate che non l'ho ancora toccata apposta per farvela vedere così intatta. Fatemi sapere se magari volete poi una recensione più swatch. Scrivetemelo qui sotto nei commenti, perché secondo me potrebbe essere una tipologia di video molto interessante. Fatemi sapere se vorresto vedere appunto questo video. E poi Valentina è stata gentilissima e mi ha voluto regalare un prodotto di Volga Cosmetici. Ecco qui. E mi ha voluto dare questo sapone morbido a base di alghe e zucchero. la medusa. Eccolo qua. Eccolo qua. Al figo e tè verde. Ha una profumazione buonissima. C'è già solo il pack. Vedete? Troppo bello. Non vedo l'ora di provarlo. Sono curiosissima. E poi mi ha lasciato anche due campioncini di puro bio. Ecco qui. E mi ha voluto lasciare la BB Cream Sublime nella colorazione numero 02. Vi faccio vedere. Ecco qua. Sono molto curiosa di provare questa BB Cream. Voi l'avete mai provata? Io ho provato il fondotinta e mi sono trovata molto bene, devo dire. Mi è piaciuto veramente tanto come fondotinta. Infatti l'ho riacquistato più di una volta. E trovate anche la recensione sul canale. L'ho fatta forse uno o due anni fa, se non mi ricordo male. Comunque la trovate scorrendo i miei video. Bene. Questi qui sono tutti gli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo. Fatemi sapere se avete provato qualcosa che vi ho mostrato. Se avete acquistato anche voi la palette di Nabla. Scrivetelo qui sotto nei commenti perché sono molto curiosa. E fatemi sapere se vi può piacere l'idea per quel video riguardante questa palette. Bene. Con questo è tutto. Fatemi sapere appunto se il video vi è piaciuto e se vi ha tenuto tantissima compagnia. Vi mando un bacione grosso. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!